ok terzo challenge the prof abbiamo un mirror ladder vuol dire una scala allo specchio for time cioè anche qui dovete comunicare questa volta un tempo di realizzazione del circuito completo i numeri sono cento single under quindi cento salti nella corda cento saltelli 50 step up 1 quindi ogni salita vale con una ripetizione quindi saranno 25 gamba destra 25 gamba a sinistra 25 dip la mia appoggio sulla sedia stendo 90 gradi torno su più facile appoggio i piedi difficile ok poi abbiamo un esercizio di cui abbiamo bisogno una bottiglia di plastica appoggio per terra e andiamo a fare lateral partis quindi da una parte all'altra e ne abbiamo 20 qui scendo scendo supero e torno 1 2 3 4 la ripetizione finisce quando avete superato la bottiglia poi abbiamo a terra il tappeto star crunch siamo in questa posizione sdraiati a terra e ci chiudiamo e ci riapriamo gambe e braccia contemporaneamente e ne abbiamo 15 di questo poi abbiamo l'inchworm che abbiamo già visto per concludere teniamo due minuti il plank alto quindi con le braccia distese sempre una bella tenuta finito il plank torniamo indietro quindi ripartiamo o questa volta ripartiamo il contrario quindi 10 inchworm 15 star crunch 20 lateral burpees 25 dip 50 centimede si ripartiamo il piano che avessi step up e 100 salti della corda e abbiamo finito. Buon allenamento a tutti! Grazie per la visione!